Il punto di accesso è stato voluto dal Sindaco e da noi, ma è stato aperto perché dobbiamo garantire che Piazza Matteotti, posto centrale della città di Napoli, sia sempre presediata per dare sicurezza ai tanti cittadini e ai tanti turisti che la frequentano ogni giorno. La Polizia Metropolitana svolge tante attività, il Presidio a Piazza Matteotti è solamente una piccolissima parte di tutte le attività che svolge. La Polizia Metropolitana svolge una primaria attività di controllo sulla terra dei fuochi, la vigilanza stradale, il presidio, il perseguimento dei reati ambientali e soprattutto il sostegno e il supporto delle procure in tutto il territorio metropolitano.